posso fare una domanda quando tu hai una figlia sì che siamo d'accordo quando quando eri incinta ricordo di averla partorita sarebbe strano essere in disaccordo su questo wait quando eri incinta eri più figa allora io ho vissuto una gravidanza stupenda sia perché è andata molto bene a livello non ho avuto problemi sia per come mi sono per come ho costruito il rapporto con me stessa in quel periodo perché ovviamente poi vabbè quando lavori con la tua immagine il tuo rapporto con te stessa e cioè come tu ti vedi è importantissimo però grazie anche a davide che è stato veramente bravo perché lui non c'è stato un giorno che non mi ha ripetuto quanto fossi bella quanto fossi sexy quanto fosse attraente quanto mi desiderava tutta la gravidanza anche quando agli ultimi mesi e io avevo una pancia enorme perché mia figlia era enorme però non avevo messo non avevo messo tanto peso quindi il resto del corpo ero così e quindi il pancione schiacciava le gambe avevo gambe gonfie cioè avevo i piedi gonfie c'è questa roba che le donne diventano strafiche durante la gravidanza perché producono tutte quelle cose questi ormoni Davide mi ha adorata ma l'intimità c'era scopavate anche proprio gli ultimi mesi col pancione in generale ti consigliano le ultime settimane di fare più sesso perché rilasciano credo che rilasci un ormone proprio l'atto sessuale che aiuta l'utero a dilatarsi a me sembra quasi un trisome quindi non so se riuscirei poi effettivamente allarga la figa sì aiuta l'utero a dilatarsi al bambino dentro assurdo che ho contestualizzato la frase allarga la figa ma letteralmente è quello non lo so a me farebbe non lo so poi chi lo sa succederà però immagino la mia ragazza al nono mese scopriamo un po' direi sto scopando due persone in sto momento ovviamente non puoi fare il pazzo diciamo non puoi fare posizioni del kamasutra tirare uno schiaffo sulla pancia tipo quello no però però ha anche le sue soddisfazioni piccola domanda allora metti i dita nella figa e senti senti il bambino che te la tira tipo senti la figa che fa tipo così capito ci vediamo presto però la sega all'interno della figa crazy concept vabbè secondo noi dovrebbe essere illegale la categoria porno delle donne in cina illegale illegale non lo so praticamente noi abbiamo grosse teorie ok tra cui la teoria del bambino nel forziere ok che è tipo tra cui spiegamela che è tipo no grazie no però mi serve in questa conversazione vabbè scusami che tipo nei porno con le pregnant con le ragazze incinta noi lo vediamo come tipo tu stai guarda un porno dove nello stesso inquadratura c'è del sesso e un bambino dentro uno scrigno ok ed è un po' strano secondo noi concettualmente perché si effettivamente concettuale ti dico per me comunque sei una donna durante la gravidanza resti una donna e fai sesso cioè non è che siccome stai per hai dentro un bambino o stai per diventare mamma il corpo non è più tuo cioè nel senso soprattutto per chi poi lo fa come lavoro non è che smetti di lavorare quando sei in cina capito quindi io non riesco a vederla così cioè ma anche ma tuttora che comunque mia figlia è nata quasi tre anni fa la gente ancora mi dice ah sì mamma non dovresti più fare queste cose ma io sono donna prima di essere madre resterò sempre una donna prima di essere madre non è che soprattutto c'è quella roba assurda scusa che ti interrompo poi ti riprendi che tipo t'ho sentito parlare più volte di questa roba che sono stra d'accordo della gente che dice ma come fai a fare i contenuti di nudo su internet cosa ne penserà tua figlia cioè la gente parla con la bocca di tua figlia ma che cazzo sì sì ma parla con la parla come se la loro normalità fosse la normalità di tutti ogni volta in tante in tante interviste ho sempre fatto questo esempio sulla normalità io mi ricordo che quando ero bambina e frequentavo le case dei miei amichetti tipo eri a cena con la tua compagnetta i genitori e magari la televisione era spenta magari facevano la preghiera magari avevano dei modi di viversi quei momenti molto diversi da quelli che erano a casa mia magari c'era la tv tutto volume non ci si parlava capito diversi e per me era strano però dopo un po' riflettendo sempre su queste cose ho capito che ogni famiglia ha un proprio equilibrio ogni casa ha una propria normalità in casa mia quello che faccio io la tata mia madre mio padre i miei suoceri i fratelli di Davide per noi è normale quindi Asia nasce e cresce in un ambiente dove questa cosa non è stigmatizzata è una cosa normale è l'ambiente sicuro della casa però tipo sta roba non va poi cioè sono d'accordo però mi immagino anche su di me magari che cresci dentro al covo familiare però prima o poi dovrai scontrarti con la realtà che è totalmente diversa da quello che è normale in casa e quello che poi forse bisogna preparare la persona sì ma nel senso ovviamente mia figlia avrà gli strumenti per rapportarsi con con il mondo esterno ma a prescindere da questo non puoi vivere una vita in funzione di quello che gli altri pensano sia normale quindi quello che io voglio trasmettere a mia figlia è questo valore non siccome gli altri pensano questa cosa non si fa la mamma non la fa no quindi avrà gli strumenti per per farsi valere c'è una carriera una che speri tua figlia non segua mai tipo quella social elabora un po' beh è distruttiva è distruttiva cioè la gente dice è facile i soldi così è distruttiva a livello fisico a livello mentale io sono la gente che espone io dico questa cosa poi continui io sono un soldato in che senso elabora pure te io sono un soldato io sto buttando la mia mente e la mia sanità mentale per una causa quale? l'arte e l'intrattenimento bro il tool bro secondo giorno tu ti ucciderai sul palco io mi ucciderò sul palco io mi sono rovinato per voi ma è un po' così eh qualsiasi cosa tu faccia è un po' così anche io mi sento così dico ma che fai di fare la foto alla patacca stai facendo una causa se la vuoi vedere così cazzi tuoi però in realtà mi espongo un sacco su tanti temi e passo giornate a raccogliere un hating incredibile e nonostante tutto sto lì ancora dopo sei anni che mi espongo che mi espongo ma fatti che sbatti perché comunque tu devi pensare tu magari sei la che ti esponi ma il ragazzino X non è che ascolta le tue robe non è che dice però ha senso starbo fa no ma no bro ma guarda che sono secondo me un giorno rifletteranno no ma piano piano tu un po' a quella parte di persone che in quel momento sono predisposte ad ascoltarti o hanno un po' più di capacità di ragionamento un po' arrivi ma se nessuno lo fa mai rimane la merda ma poi gli insulti te li pigli comunque cioè ma sì ma io magari uno capisce non vi ho insulti esisto e vengo bannata o insulti ma dal vivo sei un soldato a me è beccato qualcuno che a te ti riconosce quando vai in giro cioè ti capita spesso sì e sono tutti bravissimi immagino c'è qualcuno che ti ha mai confrontato dal vivo perché confrontata no in realtà stranamente quando sono dal vivo tutti facciamoci rapporto sei bravissima io ho visto sta cosa incredibile che mi fa stare male dove tipo sono uscito un paio di volte insieme a Omi con Max Felicita e il la gente i ragazzini appunto i 18 anni ubriachi in serata a lui era un po' non il cazzo tipo gli dicono da lontano ma quante telescopi lasciacene un paio ma Omi o a a Max Felicita ok non lo so sto mai fatto nel dubbio perché eravamo insieme quindi magari magari a te magari a me e tipo qual è l'approccio principale che c'ha sta in serata in piazza ci stanno i ragazzini ubriachi che vengono a te ti chiedono la foto qual è tipo l'approccio che hanno verso verso di te allora dipende dalla situazione capita che il peggiore i tipi che ci provano cioè che vengono lì ed hanno poi scontato che gli dai un bacio con tutti ti chiedono approcci fisici perché fai porno che fai non mi limoni e invece tu hai fatto foto con i fan hai fatto foto con i fan non ti dà fastidio la mano infatti tocca non tocca non abbraccia cioè no in generale sono abbastanza io rispetto quelli che fanno questo non l'hai mai avuto un encounter un po' creepy che tipo ti segue per dirti non ti è successo io ho avuto però già che ci sei me la riempi io ho avuto ho avuto uno stalker bomba ma questo bomba nel senso che assurdo questo risale già quando ero all'inizio dei lavori del mio lavoro sul social quindi 2017-18 e facevo ancora contemporaneamente il lavoro al bar perché c'è stato un periodo iniziale in cui ovviamente non tiravo su tantissimo dai social e ho continuato a fare il mio lavoro da bartender finché poi non ho capito che potevo il famoso lavoro vero esatto il famoso lavoro che ti spacca la schiena esatto ti nobilita esatto come scritto ad Auschwitz sì sì e praticamente avevo questo fan che ovviamente mi aveva scoperta sui social e veniva a tutte le serate in cui io lavoravo e stava lì davanti al bancone con le braccia concerte si pigliava va bene si prendeva gin tonic fino a morire uh ho fatto cadere e aspettava che io andassi via e stava tutto il tempo a fissarmi ma è durata due tre anni però non ti seguiva poi sì sì me lo sono ritrovato fuori dalla palestra ma finiva così finiva che poi tu salvi a casa e andavi a casa sua no poi è finita pensava forse domani poi è finita che l'ho confrontato perché era diventato ah ok ok il problema è che il bro aveva il porto d'armi perché era un carabiniere damn ti sei beccata il più pazzo della zona chiaro quindi poi non puoi permetterti neanche di fare gesti in consulti perché se questo gli gira piglia ti ti ficca una pallottola in testa mentre esci dal lavoro è stata pesa la situazione l'ho risolta quando me ne sono andata via dalla mia città perché in quegli anni ero tornata a casa dei miei ero appena tornata dall'Australia vivevo a Pescara quando mi sono spostata a Milano perché era troppo lontano ti immagini cazzo però mi la sbatta comunque dici che ero una persona per tre anni nella speranza ma ti fa capire il livello del problema questo è il terzo anno sono sicuro che lei apprezzerà la mia persiglia sono sicuro che lei in realtà è innamorata di me nel profondo ma non se lo ammette ma questo è un po' la delusion che hanno un po' tutti noi maschi in realtà del tipo lo so che non mi sta rispondendo ancora ai messaggi ma sono sicuro che le risponderò ancora a questa storia prima o poi mi risponderanno ma lo sai però che ti dico stacca vecchie ogni tanto sono più le donne che fanno un po' questi giochetti cioè io sono sono convinta che siamo noi che quando facciamo ci facciamo quel tipo di paralì del vabbè dai non mi sta rispondendo ma in realtà in realtà no cioè io ho sempre avuto l'idea che se un tipo non ti risponde è perché gli hai frega un cazzo cioè non credo che siamo noi che ogni tanto facciamo questi vabbè ma un po' lo capisci però dico uno che magari veramente sta qua non ti ha mai risposto e tu stai tipo a rispondere ad ogni storia per mesi stacca ah beh sì basta ovvio oppure ci siete usciti una volta poi lei è sparita beh quello vale un po' per tutte e due cioè per entrambi però fa ancora il ghosting non so se ve l'avete mai fatto io sono il king del ghosting sei il king delle merde sinceramente ho avuto il mio periodo ho avuto il mio periodo è stato bellissimo mi ha scritto tipo un lunedì lui un lunedì sì un lunedì o martedì che io ero qua a Milano credo fossi al concerto dei Dogo qualche settimana fa e mi fa ciao Ale come stai oh ciao cuore tutto bene sparito sparito per una settimana ma neanche visualizzata però quanto ti è cresciuto l'interesse ma in realtà me lo aspettavo questa proposta anche perché ho rosicato ho fatto cazzo invitano Davide non invitano me questo è un po' di sana compilizione gli scrivo gli sparisco e loro dicono ma chissà che voleva quando io lo dico no vabbè devo accettare ma devi capire Simone è quel tipo di persona che ti chiama tu rispondi e ti dice non ho tempo di parlare al telefono e chiude la chiamata e dici boh non so però almeno risponde chi è il tuo membro del Club Dogo preferito allora grazie io ho lavorato insieme a Jake per fare? ho fatto musica con lui ah ok vero ma cosa state dicendo questa è la lorda mamma che un giorno dirai a tua figlia tipo ah ma sai che Jake ha non so se ancora aveva la Yalla un po' di artisti tipo Diego Diego stava con Shadia sì stava con Yalla prima e tu io tu hai fatto tre pezzi due il terzo che era un feat con Jake l'abbiamo fatto in tempo a farlo uscire e foto nuda sì io sono fan eh sì lo so che tu sei fan è quella con il video un video tipo oscuro mi ricordo una cosa del genere no l'ha fatto uno con un video orrendo che mi hanno fatto fare loro che tipo una uno storytelling in bianco e nero che io ho odiato io mi ricordo un video molto oscuro tipo nero tutto il video di foto nuda l'ho fatto io l'ho prodotto io l'ho girato io l'ho montato e l'ho scritto io e no invece il video di foto nuda è molto carino io lo amo quella canzone il pezzo è epico super sottovalutato eh Jake Lafuria a un certo punto ha detto sai cosa mo prendo delle persone cioè qual era il piano lì dietro no non era nessun piano Jake Lafuria dentro quel pancione cosa stava che pilota che pilota il corpo l'omino dentro la sua pancia che se vuoi ti racconto come ruota le manopole le ingranaggi col fumo che riesce dalle orecchie abbiamo questa teoria che Jake in realtà è un omino che comanda il suo corpo è tipo Mars Attac sì in realtà sono curioso perché ti racconto come è successa questa cosa praticamente nel 2017-18 io stavo ero molto virale in quel periodo avevo 500.000 followers però mi vedevi ovunque e Jake ha iniziato a seguirmi quindi lui ha iniziato ad essere un fan dall'inizio e mi ha sempre seguita mi metteva like ogni tanto mi commentava quindi ogni tanto scambiavamo due parole e facevamo gli auguri di Natale cose carine poi un giorno ero venuta a Milano perché io volevo fare musica mi è sempre piaciuto ho sempre avuto questo sogno e quindi stavo un po' testando avevo diversi management che mi avevano chiesto dai vieni a fare una parola però no mi stavano sul cazzo tutti quelli con cui avevo parlato quindi ero a Milano avevo messo una storia in cui ero ero in giro percorso comodo mi ricordo e mi scrive Francesco Jake mi fa Muc perché lui mi chiama Muc ma sei a Milano e faccio sì oh becchiamoci no tanto io sto qua sto nella Virgin becchiamoci se sei qui quindi siamo beccati siamo andati a pranzo mi fa ma dimmi che cazzo sei venuto a fare e quando gli faccio guarda sono venuta a fare questo questo e questo ma la situazione è questa mi fa ma sei cretina mi fa perché non l'hai chiesto a me e mi fa perché io ho un'etichetta io non ne sapevo un cazzo e alla fine siamo finiti in studio insieme ha fatto finta di mangiare in realtà era tutta Jake finisci dentro un serbatoio che poi il nano usa per ma Jake ti ha fatto tipo da autore abbiamo scritto pezzi insieme e in quel periodo lui il producer era Big Fish di produttore Big Fish la mia domanda la mia domanda è è veramente una furia in che senso ti ricordi Jake il buono è Jake il buono o è Jake il furioso allora Jake è un orsacchione c'è proprio un sacchiotone finché non beve e poi diventa Jake la furia sì e poi non fargli girare il cazzo e tu che musica ascolti? guarda io ascolto in realtà un po' di tutto in realtà a me piace sì finché non li conosco dal vivo sì hai scritto tanti rapper in DM minchia sì ci sta sì perché poi io ho questo brutto difetto che quando conosco la persona se mi fa cagare non riesco a staccarla dalla sua arte e inizio a farmi cagare anche la sua arte quindi ti è capitato che tu ascolti della musica e dici minchia spacca questo poi quello ti scrive nei DM guarda se mi scrive nei DM e ci prova è il pacchetto start basic del rapper quindi quanti l'han fatto se ormai c'è anche lo start up tutti ma io ne DM ho anche tipi con centinaia di milioni di followers americani non si può dire facciamo stare merda grossi Biden Joe Biden no no pezzolo pure io pezzi della cioè tipi della musica uh sarà qualcuno di latino palese Drake palese Drake ha svegliato ma non solo oh crazy il video con il cazzo gigante l'hai visto tu quel video l'ha mandato a lei in realtà era un video che voleva mandare a lei sai cos'è io però ho due cose non ho mai mai subito nella mia vita il fascino dei numeri e della fama io avevo tipi famosi che mi scrivevano anche quando avevo un cazzo c'era un cazzo di nessuno non che adesso chissà che cazzo sono però che proprio avevo quattro numeri e li ho sempre mandati tutti a cagare avevo tutti a cagare io mi ritrovo tipo di M del 2018 di tipi della musica famosi tuttora anche italiani che mi chiedevano oh ciao ma perché non mi dai il tuo numero io facevo che cazzo vuoi perché ti devo dare il mio numero cioè proprio risposte tipo così vada sempre cioè ho avuto sempre quella concezione del io voglio essere quella famosa che cazzo me ne frega di succhiarti il cazzo per i tuoi numeri cioè io voglio voglio essere quella a cui tipi scrivono perché vogliono tu vuoi essere il rapper sì però perché effettivamente tante ragazze vabbè anche tanta gente famosa poi sta sempre con altra gente famosa vanno di power couple in power couple che dici ma davvero non puoi trovarti un ragazzo che sia semplicemente una persona simpatica che ci stia dentro eccetera deve essere secondo te è un inseguimento di status perché anche la tipa magari è super famosa lo riconosci se è un inseguimento di status no considera che io ho conosciuto Davide che avevo già i miei milioni di followers e lui è l'unico famoso con cui sono stata durante la mia carriera social e ovviamente quando l'ho incontrato era meno famoso di me e comunque ci ho fatto un figlio ho avuto cioè ho avuto rapporti con con ragazzi normalissimi e io già facevo questo lavoro poi ci sono anche quelle situazioni in cui per forza di cose ti inizi a frequentare qualcuno bip famoso perché sono quegli gli ambienti che frequenti ma è difficile secondo te adesso cioè adesso che tu sei poi trovi la cloud chaser cioè te ne rendi conto quando è una cosa un po' a parte che ti abitui forse tu ti fai un po' tu l'abitudine a capire chi lo è non lo è ma strano cioè lo capisci subito magari ma proprio semplicemente guardi un po' lo storico della tipa e e ti rendi conto dei pali in frasca su cui è passata guardi chi sei magari ma il rapper in questione quando arriva questa ragazza in questione dice chi sono i suoi ultimi cinque ragazzi altri cinque rapper ma sì dai iniziamoci una relazione a lungo te ci sta però dico non ti viene il dubbio che sta qua non è che gliene frega veramente di te non dire frega tipo youtuber cosplayer su quello te la vedi tu nel senso sticazzi io un'altra teoria la sto cucinando adesso cucina cucina bro vediamo se bruci oppure fa un bel piatto allora chi ha una carriera del genere tipo il rapper no yes che la carriera è proprio il suo primo la sua personalità la sua personalità la sua personalità la sua carriera se lei non ha troppo impegno verso la relazione capito allora si prende che ne so va al mercato prende la prima cosa che trova e se la tiene ah dici ognuno ci fa i cazzi proprio nella relazione dice non c'ho voglia di nella mia carriera in tutto l'impegno che metto nella mia carriera di mettere l'impegno anche nel trovare la persona giusta per me dice questa qua tanto se iscrivo ci sta e ci si mette insieme e non ah ok capito il mio ragionamento lo sto a di male però no no ho capito cioè non mi impegno nella relazione quindi la prima va bene sì quello dipende è venuta lei da me e ci sta ok dipende dipende finché non ti innamori è quello cioè una certa ti innamorerai pure poi ti puoi anche innamorare eh c'è quella piccola variabile che proprio ti cula quando meno te l'aspetti proprio con la sabbia tu dici ma il pezzo ti ha mai fatto ridere quando senti il pezzo di uno che fa ste troie per me ho avuto i peggiori ti prego Queen ti prego ho avuto i peggiori dissing della mia carriera ultimamente tra Rondo e Sfera quello con Sfera è durato durato mese raccontamelo che non lo so perso io Rondo non l'ho sentito sinceramente dissing però raccontalo tu allora ma io dissing con Sfera lei lo saprà meglio ma è andato avanti per mesi eh io non lo so io ho visto qualche clip su TikTok di tu che risponde per fartela breve anche perché mi tirerò dietro mi troverò i fan i nostri fan non seguono Sfera e basta ascoltano solo Tony Tumilli fanculo Sfera e basta sei il tumore della musica italiana let's go Murobuntu non denunciarmi per favore poi c'è il disclaimer all'inizio video quindi vabbè tuo figlio tumore di me no in pratica era tipo luglio dell'anno scorso se ne esce con un Twitter in cui si lamentava che gli avevano che avevano bannato dal suo Instagram il video del parto della tipa e in questa frase lui fa no perché queste sono le stesse linee guida che mi permettono di postare la droga alle pistole e di far postare le tette a quelle quattro scappate di casa appunto primo il video della tipa era un video di un parto cesareo cioè letteralmente la squartavano una rachina la finale di Kratos la rachina c'era il quick time event se tu guardi il video zio è assurdo chiaro se tu guardi il video c'era la X il cerchio di Kratos tipo era era fatale zio assurdo e quindi era un contenuto un po' più sensibile di un parto naturale che tra l'altro è ammesso dalle linee guida il parto naturale si ma inquadrando ma inquadrando per Instagram per Meta in generale il breastfeeding quindi l'allattamento quindi il capezzolo e la vagina non sono contenuti sensibili in relazione all'allattamento al parto contestualizzati si quindi già si parla di un contenuto che è un contenuto sensibile perché non è esattamente un parto naturale e per qualcuno potrebbe essere scioccante la pancia aperta vorrei magari non vedere litri di sangue uscire dalla tua tipa e poi il concetto che mi ha dato sul cazzo è stato che finché si parla della sua combriccola possiamo postare foto e cocaina però quando si parla delle tette devi associarci quelle scappate di casa quindi là gli risposi dicendo va bene tutto bro ma uno ti stai lamentando di una roba che in realtà non dovevi postare due scappate di casa anche no cioè spieghami perché ogni volta dovete dare questi appellativi a alimentare questo hating che già ci sommerge la vita soprattutto poi uno così influente che se ne esce così poi avete sempre cazzo in bocca le troie nei vostri testi del cazzo vi stanno comode le troie quando ha la culona me le scopo tutte poi quando eh siamo scappate di casa mesi e mesi ovviamente finisce lì io mesi e mesi a ritrovarmi i suoi fan ma mesi e mesi che mi minacciavano in dm che mi scrivevano insulti su tutti mesi e mesi ma tu l'avevi già risposto? eh? tu l'avevi già risposto? o prima della risposta? no no quando avevo risposto cioè quindi ovviamente è ondate di hating immagina se la minacciavano prima quando lui ha detto scappare di casa ma mi sono perso la risposta no 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 praticamente dopo la risposta apri di cielo sono entrata nell'abisso dell'odio da parte dei suoi fan lori di hmg io vivo di quell'odio e in pratica tutto bene fin con il giorno avevo il cazzo girato alle stelle avevo il cazzo girato alle stelle perché avevo un cazzo di problema in casa e praticamente l'ennesimo stronzetto aveva scritto sotto i miei post una roba riferita a lui insultandomi peso finendo con una brutta scappata di casa una cosa del genere finché praticamente ho risposto perché c'era qui tipo da mesi tipo scappata di casa come la moglie di Sfera che era una cosa che mi ero risparmiata fino a quel punto perché io quanto te la tenevi dentro quella cosa lì sì perché erano mesi che cercavo di essere corretta di non mettere in mezzo lei quando in realtà bro la tua tipa faceva quello che facevo io e non è che lei era accolta proprio che vendeva le rose all'angolo della strada pura innocente quindi cioè a me sta benissimo io sono pro pornografia pro prostituzione pro pro tutto pro sono pro le ragazze promiscue mi dà sul cazzo la storia del body count quello che cazzo vuoi tu quindi c'è quello che lei ha fatto col suo corpo con la sua figa ma benissimo però ce l'ha in casa sono io a scappata di casa cioè qual è la coerenza di sta situazione no? mi è dispiaciuto mettere in mezzo lei perché io in realtà non ce l'ho con lei non ce l'ho assolutamente con lei cioè rispetto tutto quello che lei ha fatto però è poco coerente da parte sua venire a insultare un'intera categoria aizzando un odio che già ripeto è sfissiante poi lui è molto influente quando guardati in casa lui ha fatto slut shaming con con la slut tra sotto le coperte cioè ha letteralmente wifato la slut se la vuoi vedere così ma la tipa ancora cioè il profilo il profilo il villain arc di Lorenzo questo si sta risparmiando vabbè però ha slutato con la slut in casa che cazzo che frase è ha fatto slut shaming con la slut in casa se la vuoi vedere così sì il problema è che ha rifatto la slut cioè quello che voglio dire io ha rifatto la slut ci sta ci sta ci sta ma che cazzo ridi ma è lui che ti ha risposto o lei sono stata l'unica risposta di sfera su thread perché quella quella roba è stata fuori su thread poi è andata virale e l'unica risposta che il tipo ha su thread ero io poi ovviamente l'ha cancellata perché è andata è andata degenerando perché lui ha risposto e io glielo ho tirate via dietro peggio perché gli ho detto stai attento perché potrei postare delle foto di cosa di lei vabbè là però andavi nel no chiaro infatti ho detto fly down perché non è che se faccio un giro su google è così difficile ho capito io voglio collegarmi a questa roba uscendo da sfera e basta e la sua sì no anche perché se no cioè ripetiamo lo sottolineo io contro Angelina non ho niente viva le puttane viva tutto e il problema ma no ma io ho detto cioè ho detto slut il problema è lui cioè il problema è lui non lei sta roba hai detto sta cosa delle foto a me fa morire che tipo le ragazze famose soprattutto nel tuo ambito hanno tipo i segreti in mano di tutti cioè tipo se voglio se vuole rovinare un rapper sono sicuro che può farlo il libro nero sotto al letto si tramandano delle robe tra di loro in una maniera incredibile è sta tutto un idm come tipo la paura che Omi aveva questa paura fottuta di tipo Naomi decrescenzo lui temeva Naomi perché diceva beh ti dico anche io ho paura questa cosa qua e quindi tipo quando gli dicevo si invitiamo Naomi in live lui aveva paura e che diceva guarda che se noi per sbaglio andiamo sul cazzo a Naomi come può andare sul cazzo ne so anche a Cristina loro se vogliono ti rovinano anche in cose che nemmeno sai tu pensavi non si sapessero invece si sanno si sanno e ce l'hanno loro in mano c'è un'intelligence ma è chiaro dai quello è chiaro che sia così che ci passano chi è la CEO di questo movimento allora tendenzialmente quello che succede è che più sei grossa e più confluiscono in te queste informazioni ma perché banalmente ne sei sei la preda più spesso poi cosa accade che io sono a parte questi dissing cioè proprio relativi questi questi spaccati di vita non sono una tipa molto belligerante sui social io non posto i cazzi miei su Instagram sono una figurina con le tette praticamente cioè nel senso su Instagram non ho un'anima cioè quello che voglio vendere sono le tette e il culo quindi non è che faccio vedere quello che penso che quindi non sto lì a fare i dissing a fare queste robe che io trovo anche abbastanza cringe esattamente anche perché ho un'età però cosa accade è che sono una persona tendenzialmente di cui ti puoi fidare e le mie colleghe lo sanno però è una cosa che direbbe una persona di cui non ti puoi fidare io sono un atto è stato bruciato se uno ti dice non puoi fidarti di me no sì no nel senso sono molto capito riservata e quindi sono un po' vista come la mamma e la gente si apre con te sì a me arriva arriva tutto tutte le informazioni spero che un giorno scriverai tipo un bel libro tipo le mie verità e te con il dolce vita tipo Andrea Otti minchia te con gli occhiali del dolce vita nel retro del libro lo sai cosa l'agenda rossa di Falcone di Borsellino mi sono sempre chiesta il coraggio che hanno certi di essere così audaci e scrivere a tipe comunque esposte sapendo che questa roba non esce ah uno ti scrive una pazzia e non pensa di lei potrebbe esaurarmi saranno arrappate in quel momento il loro senso del giudizio è totalmente andato anche tipico una famiglia cioè anche tipico la tipa tipico i tipi tu non hai mai smerdato nessuno no cioè ma proprio non dico famoso proprio un signore di 50 anni che ti scrive tipo le peggio cose no a me quelle cose cioè io sono del parere che i panni sporchi te li lavi in casa tua cioè nel senso non vai a infamarlo diciamo no nel senso io ho una relazione aperta io e Davide abbiamo una relazione aperta quindi la questione è ovviamente non mi scoperei mai i tipi delle mie amiche chiaro? vabbè rispetto di base nel senso però se cioè mo mi tirerò dietro l'odio delle tipe sicuramente non ho quella quella cosa che non mi scopo il tipo perché è fidanzato se io di lei non so un cazzo niente perché sono cazzi tuoi bro cioè finché finché io sono a posto col mio tipo e lui sa che io vado a scopare sono cazzi tuoi ho un'alta etica dell'amicizia per cui anche se sei conoscente per cui non farei una roba del genere però se non so manco di però la tipe se la prende con te mi fa male magari non se la prende nemmeno con il ragazzo la colpa è sua cioè la colpa è di lui capito che se è una roba che volevo fare da ragazzo quando vabbè non volevo assolutamente andare a lavorare veramente e tipo avevo trovato su su internet magari su internet su sto sito che si chiamava nulled qualcosa non penso esista ancora esiste non cercatelo non andate vipperemo il nome vipperemo il nome vabbè se hai voglia di vipparlo però è il sito segreto insomma c'erano sti pacchetti che vendevano di una roba chiamata i e trattino whoring ed erano pacchetti ma penso sia super illegale non l'ho fatto pacchetti con queste ragazze io l'ho fatto in mille setting diversi ma non famose non so se erano le ragazze che vendevano sti pacchetti ok e serviva a crearti un profilo con quindi un sacco di video di foto per scammare i vecchi per poi dittarli con quel ah ma guarda che ho 17 anni capito se vanno avanti poi gli dici bro in realtà sono un ragazzo marocchino di 22 anni sta roba la mandata famiglia o non l'ho fatto e li ricattavano e poi è una tecnica di scammare come si chiama quel film con chiaro Reeves knock knock l'avete mai visto? no no ma conosco knock knock proprio di 5 knock knock è un film con chiaro Reeves che insomma è datato cosa ne pensi? ah scusa però un po' ricalca sta cosa sono se due tipe che i vanno a bussare facendo finta che erano finite da un party ubriache lui prova di famiglia con la famiglia in vacanza praticamente sono in casa e iniziano a ricattarlo ah l'ho visto minchia pesissimo Keanu Reeves sì o no? sì vabbè minchia anch'io sì anche come persona secondo me se tu guardi attentamente Keanu Reeves non tocca mai veramente per terra è sempre un centimetro c'è sempre un panino con sé per mettersi su una panchina e mangiare e mangiarsi ma quanto è vera quella storia perché ogni volta leggi i post di Keanu Reeves che fa una volta Keanu Reeves è seduto vicino a un barbone gli ha dato consigli di vita e ogni volta ci sono stelle notizie su di lui che sembra in giro a far anche i video di lui in metro ma la gente poi non gli rompe troppo il cazzo perché io ho visto video di lui che sta sulla metro la gente lo riprende lui lascia il post a una signora tipo secondo me la gente dice ma Keanu Reeves e poi fa ma no non sarà lui secondo me se tu ti porti in quel modo la gente ti tratta in quel modo cioè se tu vai lì ti nascondi c'è anche un'altra cultura sì sicuramente però secondo me la gente sa che lui è chill e non gli vanno a rompere il cazzo apposto però effettivo come quello che dice pure Anas tipo ma va che è lui sulla metro tu l'hai mai visto il video o l'hai mai visto il video post Malone a Roma no io no c'è questo video incredibile dove autobus ATAC di Roma che va c'è un ragazzo che riprende così dentro l'ATAC e c'è mentre fa così bro nemmeno si ferma su di lui c'è post Malone con un cuscino in mano tutti i sbatti col caldo romano tutto sudato sul bus ed era veramente era post Malone assurdo zia chissà che cazzo di storia c'è dietro con il cuscino in mano incredibile che cazzo come cazzo si sarà preso mille droghe ma secondo me avrò detto fammi vivere l'experience romana la bella vita da clochard la bella vita adesso mi porto mi porto il cuscino su una panchina e faccio il clochard ma guarda che anche post Malone c'ha i video sempre a Roma dei ragazzini che dicono e lui fa tipo dai dai è un grande però anche lì nessuno li rompe il cazzo e in Italia se uno vede un tipo famoso minchia c'ha il moccino di gentile quindi uno vede post e dice cazzo lui è chill e non gli vada a rompere il cazzo verrebbe inseguito come un secondo me no comunque figurati magari uno vede Jamie Tights va a chiedergli la foto gli rompe il cazzo vede post Malone non gliela chiede ma che cazzo Jamie Tights tirereste un pugno o no? no non tirerei un pugno a nessuno è quel video lì? è proprio lui ma poi in sbatti è veramente in sbatti però ma gli avresti chiesto qualcosa se l'avessi beccato lì? non lo so una sigaretta ero in disagio dal caldo romano però ma che cazzo sembra troppo un discord mod comunque tra l'altro è dall'inizio che volevo far sto secondo me ci sta il discorso delle parafilie sì ti va? vai 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 perché prima off camera stavamo dicendo appunto che conoscevo sta ragazza ho conosciuto sta ragazza che mi diceva che aveva la parafilie del voler essere mangiata perché la collegava all'amore quindi sessualizzava il fatto spiega cosa vuol dire io non so bene cioè per la precisione magari lo sai spiegare meglio di me perché neanche io te lo so spiegare molto bene allora teoricamente poi potrei anche sbagliare qualche virgola parafilia è quando hai una cosa ti piace talmente tanto che hai attrazione sessuale che ti crea eccitamento sessuale ok qual è la differenza con un fetish? se c'è eh non lo so cioè nel senso potrei sbagliare la risposta però googlatela vabbè sì parafilia cioè come stavamo dicendo prima parafilie sono anche cioè è anche roba a peso cioè tipo la pedofilia è una parafilia ah ok ok quindi non è tutto ah che figo mi piace magari è più una roba che fai mentre scopi e basta no cioè sono anche cose per venire mangiata effettivamente tipo Jeffrey Dahmer aveva una parafilia perché lui cos'è che faceva Jeffrey Dahmer scopava era attirato sessualmente dalla lucentezza degli organi interni ti dirò ci sta lui ma cioè in realtà è una roba un po' affascinante comunque signor giudice l'intestino da un certo punto di vista è affascinante ah quindi tipo Ed Gein che era quello che faceva gli oggetti in casa con gli organi probabilmente aveva la stessa cosa è una parafilia però lui aveva proprio si eccitava sessualmente a me fa troppo ridere sono tutto impara nel frigo io sono sta imparando come per dire è così bello sto cazzo che lo tengo per stasera tipo e voi avete delle parafilie secondo voi? cosa cioè hai detto tipo è così bello sto cazzo che lo tengo per stasera ah sì adesso non mi va lo mangio dopo sì 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 quello era tu hai delle parafilie? sì tipo ha un nome stra difficile non lo ricordo è indicibile cos'è? io sono attratta sessualmente da me stessa come se fossi un'altra persona spiego quando vedo la mia immagine quando faccio i miei video ad esempio da sola o comunque creo i miei contenuti espliciti e li riguardo io mi accito sessualmente come se quella non fosse io e ti masturbi ti è mai percapitato? devo cosa succede che quando finisco di lavorare quindi di registrare dei contenuti o mi masturbo o devo scopare perché sono eccitata quindi accade tante volte che sono a casa è bellissimo in realtà però ogni volta che lo fai lo devi rifare subito dopo ma il lavoro non è cioè farlo per il lavoro non è come quando lo fai per te stesso comunque cosa dicevi? accade che finisco di lavorare magari ero in camera mia Davide era giù a vedere un film io scendo e lo guardo e faccio dobbiamo scopare mi dispiace cioè proprio mi piglia proprio la furia e lui ti dice mai zia non c'ho cazzo hai fatto il contenuto e faccio sì già lo sa mi chiede tra solo film tutto il giorno magari pausa magic gioca magic Davide guarda Davide fa tutto mentre gioca magic cioè lui gioca magic costantemente nella sua vita poi esplica le altre funzioni gli altri impegni le altre funzioni vitali al contrario mio che non riesco a fare due robe insieme perché se mi concentro su una e tu mi dici altre cose mi vanti in tilt lui invece riesce a giocare a magic e a fare tutto ti ascolta sacrificerebbe vostra figlia per delle carte super uniche di magic Davide ama ama da morire tre cose che sacrificherebbe per le magic ottima domanda la palestra la palestra non lo so il cinema forse questo magic che dobbiamo approfondirlo meglio comunque io non pensavo fosse così muscolosa quando lo seguo su instagram ti piace? cioè buildato da quando lo seguo su instagram hai la parafilia bro ma tipo cosa ne pensi dei muscoli cioè secondo voi io non riesco a capire il fascino dei muscoli forse perché ogni volta che dico ridi ma che cazzo vuoi? ah da quello che sai cazzo non è muscolo quindi non mi fai penso microonde quanto funzionano ma quanto funzionano nel senso nel flirting cioè se uno arriva è muscoloso è davvero più figo? no ok questo intendevo io io sono cioè io sono fan della panza ok e comunque in generale non ho la voce gne 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 perché mi si è tappato totalmente il naso in generale non no no dovrei spruzzarmi tipo la rinazina ce l'ho nella borsa sono fan cioè non sono una tipa che guarda tanto l'aspetto fisico la figura ti no potevi prenderlo tu aspetta che è un casino il giullare di colore aspetta sono mani nelle borse delle donne è vero me l'ha insegnato la mamma quindi tu dici anche sta roba io onestamente faccio fatica sempre un po' a crederci no cosa? beh aspetta ma ti stai lì faccio sempre un po' a fatica a credere a questa cosa del non mi interessa il l'aspetto fisico perché la sento dire troppe volte e quindi non so mi sembra un po' per quanto mi riguarda è vero ho avuto anche cioè ho scopato anche con tipi oggettivamente brutti e mi affascinavano da morire cioè non è che se non hai i muscoli o cioè per farla breve di Davide non è principalmente il corpo che mi attrae io c'ho questa teoria sul quando mi dicono tipo cosa vedi in un corpo io penso in ogni singolo nostro elemento come un accessorio e gli accessori vanno abbinati cioè se il muscolo non ti sta bene con la tua faccia io dico però è anche bello il contrasto l'armonia l'armonia tra tutti gli elementi del corpo per me fuori di testa paranzulla con i muscoli è un contrasto assurdo però funziona e la bellezza appunto io la vedo anche in persone che sono per la società oggettivamente brutte però tipo quel dente storto vicino a quell'orecchio a sventola io dico sono quelle cose che ti rendono unico se no saremmo tutti omologati esteticamente cazzo ridi adesso e perché prima dicevi che nel tolifan c'è tanta gente con delle parafilie peso perché poi tu non metti contenuti che credo vadano su weird diciamo sì sai magari tu prima parlavi della gente che è la parafilia delle gigantesse e ci sono creators che effettivamente vanno in quella roba lì e cercano di emulare quel sentimento quindi ci sta che attirano quelle persone no no tu non hai una cioè nel senso non è che trovi una creator che fa solo quello perché in realtà dentro Only hai la chat privata dove ognuno può chiederti quello che vuole quindi ci sta anche che è il tipo che viene da me e mi chiede mi dice io ho questo fetish i conigli qualsiasi gigantesse piuttosto che gli organi lucenti bellissimi organi però sarebbe un po' problematico ci sono anche linee guida molto strette su OnlyFans la scella piuttosto che cose strane e te lo chiedono ma e magari lo fai nel senso che io sono pro OnlyFans cioè sono arrabbiata con la piattaforma per alcuni aspetti sono pro per tanti altri tipo la sicurezza che è dentro OnlyFans che è molto più è molto maggiore di quella che trovi nei suoi canali porno tradizionali cioè in OnlyFans è difficile che puoi liccare contenuti di qualcuno fare revenge porn diffondere minori cioè è molto controllato il sito e non ci accedi assolutamente se hai meno di 18 anni ed è un posto felice per le persone nel senso che hai quel tuo angolino di intimità con la creator che ti arrapa di più o per cui sogni che sogni di più e le puoi chiedere quello che vuoi cioè piuttosto che buttarti sterilmente per quanto rispetti il lavoro tradizionale del porno per certi aspetti su un motore di ricerca e guardare un video con una tipa che sai che non avrai mai cioè crea un rapporto più intimo più personale cioè io rispetto un sacco quello spazio intimo per cui il fan paga perché quello in realtà è io no la cosa però un po' strana è che tipo cioè comunque non è mai un legame reale no quindi alla fine come poi si fa in tante robe è più un è parasociale esatto quella è una finzione cinematografica che accetti cioè lo sai cioè se tu ti scrivi sperando in è un problema mio nel senso è un un accordo invisibile che va rispettato però ti dico questo allora ho conosciuto molte ragazze non big ok però che lavorano in OnlyFans che mi hanno fatto cucinare questa mio questo mio pensiero ok che OnlyFans attualmente è alla portata di tutti cioè nel senso di scrivi questo è quello su cui non sono d'accordo esatto quello su cui prima ho detto non per tutto ma intendi economicamente la portata di tutti no io posso aprire OnlyFans e farlo ah ok lì sono arrabbiata da morire questa cosa a me dà fastidio anche perché io vedo tanta a queste ragazze che ho parlato poco fa hanno questa modalità di approccio con le persone con i propri iscritti che secondo me è sbagliata dove vedi la persona in difficoltà con te perché tu stai vendendo un rapporto almeno per il loro esempio e lo sfruttano fino al massimo tipo vendono la persona che sta male gli scrive tipo ah mi è piaciuto tantissimo chiacchierare con te mi piace tantissimo passare del tempo insieme a te quando in realtà la conversazione poi è ok dammi altri 50 euro se vogliamo anche parlare e questo secondo me è una roba che a me a me fa male perché mi empatizzo lui e non riesco a capire perché non dicono basta alcune alcune persone quella è un'etica del lavoro che non tutte hanno ma qual è il problema aspetta che bevo un goccio d'acqua il problema lo ha creato la piattaforma perché secondo me andava gestita in una maniera diversa nel senso che tu entri ti iscrivi e diventi creator dentro la piattaforma se hai oggettivamente una fan base importante da monetizzare cioè se tu sei un creator fuori sei una personalità fuori che ha una fan base sopra un certo una certa soglia allora hai i requisiti per diventare creator questo questo crea cioè questo fa sì che tu hai anche un certo tipo di rapporto col tuo pubblico cioè hai una certa etica del lavoro se diventa c'è la gora che mi sta se diventa che mia zia mia cugina la fruttivendola tutte possono aprirsi all'ifanz anche se hanno quattro catti che le seguono perché devono raccattare quattro soldi accade quella cosa lì e svalutano il mercato nel senso che iniziano a vendere contenuti hardcore a tre dollari e ovviamente rovina il mercato a chi ha ha dei contenuti che hanno effettivamente un valore sul mercato quindi io mi ritrovo che anche se ho tanti fan alla fine diventa un puttanario per cui il mio porno perde di valore perché costa troppo rispetto al porno del cazzo che la tipa X vende che poi anche magari non è un porno estremo eccetera e quindi secondo me dovevano mettere dei requisiti per cui tu diventi creator la monetizzazione cioè che tu abiliti la monetizzazione quando il tuo account viene verificato ma sti requisiti quali dovrebbero essere scusate per me andava fatto proprio una sorta di selezione esterna a Holyfans cioè selezionare i creator che hanno effettivamente una fanbase io tipo su Twitch funziona così la partnership è un contratto che arriva con degli obiettivi esatto e secondo me una modalità del genere dentro Holyfans sarebbe sarebbe stata fantastica a me devi fare tipo su Instagram però in generale cioè devi avere un ton di follow un ton di roba e poi puoi aprire Holyfans e questo eviterebbe anche a quelle povere ragazze poi puoi iniziare a monetizzare su Holyfans tu dici prima lo fai gratis eh perché così cioè comunque deve essere democratico nel senso vedi sei la passione davvero lo fai gratis con un certo limite sui tipi di contenuti che puoi mettere con dei limiti capito e questo evita però anche tipo che ne so tante ragazze hanno invece appunto il sogno del dici diventerò voglio fare i soldi con sta cosa diventi milionario in due giorni vendi tutta la tua intimità senza mai guadagnare ti distruggi la vita e ti te ne penti te ne penti di brutto infatti ragazzi ma scusate a me una di quelle cose che mi ha sempre fatto strano di OF è che secondo me 18 anni è troppo presto perché però a 18 anni è troppo presto anche scegliere l'università sono d'accordo sono d'accordo però cioè io mi immagino ok 18 anni tu lo fai maschio femmino quello che è posti davvero foto magari anche estreme tu dai 18 ai 25 cambi tantissimo magari ai 25 anni ti ritrovi chiedici cazzo io ho messo quelle robe e merda sono lì per sempre girano però io sono una persona totalmente diversa no? perché non ci siamo che ho sviluppato il lobo prefrontale a quell'età ma come fai? servirebbe di poi educare in qualche modo o alzare l'età in cui lo fai il problema principale di questa roba sta cioè i colpevoli di sta roba sono sono interni sono insider della mia cioè della categoria nel senso che purtroppo ci sono troppe poche creator che fanno divulgazione corretta rispetto a questo lavoro portando avanti anche i grossi contro di questo lavoro ci sono state troppe ragazze che con leggerezza hanno sponsorizzato i grossi guadagni facendo passare il messaggio del è facile non devi fare niente quando non è assolutamente così ma per tanti motivi è difficile a livello fisico farlo il lavoro è difficile a livello pratico perché è un lavoro di marketing esterno non è ho la figa sono figa faccio 20k al mese sì figa e pieno sennò sarebbero tutte famose esatto io non sarei la più famosa perché non sono la più figa se fosse così e non è facile perché cazzo solo iscriversi a quella cazzo di piattaforma è una condanna cioè ti tiri dietro un mare di merda di pregiudizio che non ti fanno più vivere quindi se non hai le spalle grosse così ti distruggono ma tu hai mai pensato è il problema è che c'è stata sta narrativa da parte delle mie colleghe che ha ha soppassato il limite quindi la gente un po' per invidia sociale per i guadagni che credono che ci siano dall'altra parte perché non sono sempre così alti è un po' per perché è passato questo ah è facile è un lavoro facile basta che c'è una figa per fare 5k al mese basta così così il problema è che proprio la gente che ci odia dice sta roba la promuove la promuove in questo modo cioè quando mi scrivono tu non lavori è un lavoro facile tu non lavori zio lo stai promuovendo tu le ragazzine che leggono quello che tu scrivi pensano che è così è vero cioè capisci sono io che perdo anni della mia vita della mia pazienza della mia della mia tranquillità mentale a dire cazzo no è un lavoro che non puoi prendere cioè è una decisione che non puoi prendere così e se se fai l'errore di farlo e ti rendi conto che hai sbagliato ti sei distrutto la vita perché viviamo ancora in una società in cui non ne vieni fuori cioè ti taglierai delle possibilità è il marchio finale proprio si sei proprio marchiato si c'è da dire che comunque io ogni tanto quando vedo perdonatemi sono una roba brutta magari certe ragazze metteressi contenuti super estremi e l'abbonamento costa 2 euro e 50 dico queen cioè non può costare meno delle patatine vabbè però questa è un po' una cosa da sfatare perché pure a me mi dicono la tua figa costa costa 3 euro e 50 perché quando sono in sconto l'abbonamento costa poco c'è tutto un marketing dentro l'ifans che non è che tu entri e mi vedi le gonadi cioè per arrivare a dei contenuti più espliciti infatti ma quello quello ha senso quello a me non piace devo ammettere però e perché no e perché a me sembra un po' una situazione in cui magari il tipo si scrive poi dice ah faccio il prossimo step mi scrivo poi arriva a quel punto lì quindi dici tipo minchia ho già speso 30 euro non mi fermo adesso OnlyFans non è pacchetti iniziali giusto ha solo l'abbonamento e poi una volta che sei dentro scopri il listino o no allora tendenzialmente puoi gestirlo in due modi o l'abbonamento è gratis però è tutto a pagamento o hai un abbonamento che può variare il prezzo in base a quello che tu posti in home perché la home ha dei contenuti già accessibili e a chi non basta quei contenuti lì che tu offri insieme al prezzo dell'abbonamento ha la chat privata dove si può fare la sua esperienza è come il padron sì ma riesci a gestire tutti tutti quelli che ti scrivono ma sì ma no io quello che dico è che secondo me personalmente cioè sarebbe meglio è il lavoro però adesso non so quante penso tante persone siano iscritte comunque cioè stare dietro poi a sì ma secondo me quello che dico è che sarebbe meglio se l'unico modo fosse invece di pagare sì o è tutto gratis e poi pam 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 tutto a scaglioni o paghi prima dieci poi dieci poi dieci poi dieci tu piuttosto magari appunto tu che sei super famosa dici il mio OnlyFans costa cento al mese e poi c'è tutto dentro quei cento al mese però così a livello di marketing no a livello di marketing ovviamente è peggio sì ma io mi metto sempre dal punto di vista di un disperato cioè nel senso sì ma il disperato il disperato entra con tre doll il disperato con tutto il rispetto perché io adoro i miei disperati fan culo sì sì ma per carità entra e arriva dove può posso fare la domanda un po' da one more time perdonate e se non può c'è anche la ticare di e basta cioè wait beh io come ti dicevo ho un'etica molto alta nel lavoro quindi se mi rendo conto che si può innescare quel gioco di dipendenza io lo stoppo una domanda un po' goofy però vabbè sono curioso comunque tu mi sembra io sono anche contro gli slave anche io perché mi dispiace la persona sveglia e tutto e ti pesa che come hai detto prima su Instagram alla fine dici vabbè sono una figurina con le tette eccetera quello mi importa ti dà mai fastidio il fatto che tanti ragazzini appunto pensano che questa non ha un cervello cioè non parla te la vivi male o alla fine tranquilla perché comunque ti fai i tuoi soldi sai che comunque nella vita privata te la vivi bene oppure se vorresti una figura pubblica cioè la sua figura pubblica avesse un altro tipo di allora il problema del mio lavoro è che quando lo fai poi è difficile riposizionarti nel senso che ecco Alex che prova a fare musica Alex che fa la giornalista Alex che fa podcast Alex che fa altre cose dove non vende più tette e culo e espone le proprie idee che per me sono molto più intime del mio corpo la gente fa ancora un po' fatica a vederti poi come un artista musicale come un podcaster come una giornata capito? perché sei quella che fa porno e tenta di fare altro chiaro? io sono un po' fortunata nella mia vita nel mio percorso perché ho sempre distinto quello che io sono a livello internazionale avendo un profilo Instagram che è per il 90% internazionale è solo per il 10% italiano la parte sana sì no vabbè dai ci sono anche gli italiani sali che mi seguono lì mi concentro sul mio business quindi vendo il mio corpo e non mi interessa proprio vendere le idee cioè è un business cioè sono focus sul business questo internazionalmente? questo su Instagram ah ok e tendenzialmente anche su Twitter ogni tanto ogni tanto scrivo qualcosa ma trovi solo robe esplicite X X esatto poi ho vabbè altri spazi che sono possono essere TikTok come possono essere spazi come YouTube tramite varie interviste ho fatto un TEDx ho fatto un sacco di roba dove spongo le mie idee e ovviamente in questo la presenza di Davide nella mia vita mi ha aiutata un botto perché comunque lui è già una persona che ha una certa una certa stima un certo seguito in quel senso incredibilità quindi sì diciamo che è un po' anche un po' goduto del suo spazio che piano piano io sono riuscita sono riuscita un po' a entrarci e la gente che era predisposta già a ascoltare lui ha iniziato a conoscermi quindi diciamo che di quello che accade su Instagram a quel livello non me ne frega un cazzo perché per me è un modo di lavorare ah infatti però ho i miei spazi in cui mi incazzo anche perché mi espongo e banalmente ripeto come ti ho raccontato l'altro giorno sono giorni che sto litigando su TikTok con la gente per una frase che ho detto ho visto che tu comunque fai le dirette su TikTok dove leggi e argomenti la chat sì a volte mi incazzo come strategia crearsi appunto i propri spazi per sfogare in vari argomenti sì sì no in realtà mi piacerebbe anche iniziare a fare Twitch il problema è che dovrei tipo avere giornate di 72 ore avere un clone per farlo dai magari fra un po' con le AI puoi creare il tuo avatar fotorealistico chat ma guarda se se ci fosse la tecnologia tanto avanzata per fare quello la metterei a fare Holyfans ultima domanda proprio ah scusami perché ovviamente io trovo molto più soddisfazione personale quando riscontri a livello umano cioè trovo molta più soddisfazione una tipa che viene cioè l'altro giorno ero a fare dei contenuti dove c'è la fontana di Trevi a un certo punto è arrivata una ragazza che mi si è posizionata davanti io pensavo mi chiedesse una foto invece mi si è persa davanti mi fa Alex ed è scopriata a piangere ma a piangere e mi fa io ti devo ringraziare perché ho ascoltato tutte le tue interviste io mi sentivo strana invece tante cose mi sono rispecchiata insomma si è messa a piangere e mi ha abbracciata per me vale molto di più questo tipo di riscontro che ah è un bel culo cioè capito che per carità va benissimo sto ascoltando se è invitata comunque cioè che va benissimo cioè nel senso minchia mi faccio un culo così per rimanere competitiva a livello fisico su un mercato di tipe che hanno 15 anni meno di me quindi figo però quando ho un riscontro umano ovviamente per me vabbè ci sta è una coccola capito ma ticket call hanno spesso? sì ho un sacco di video sul telefono sai quei video mentre stai facendo dei video in giro per fare contenuti in cui magari tipo mi stombazza io giro col dito medio o uno mi mi dice qualcosa di brutto io lo mando a faccio cioè a me è quella la cosa che mi sembra più perché comunque se è una persona appariscente mi piaceva un'ansia sociale perché sono cioè immaginavo che puoi camminare per te soprattutto se c'è tanta gente deve essere ma infatti non esco cioè io sono quattro anni che bene o male giro tra tra la Svizzera e Roma quando sono a Roma a casa con con Davide e la bambina non esco abbiamo una casa su quattro piani vivo lì vivo lì circondata dai gatti nella corpiano per cinque gatti un altro per altri cinque gatti si capito ed è la mia sfera sociale quella no mia figlia i miei gatti Davide è difficile che io esca fuori perché hai tre dici gatti va detto ma scusa quelli che appunto o che ti caccollano o quelli più più stronzi diciamo nella mia testa sono cioè io mi immagino tipo il cinquantenne boomer bigotto che fa così no però non è vera sta cosa sono i più giovani cioè tipo i diciottenni si minchia di brutto ma in coppia non me l'aspettavo gente da sola che ti cacolla c'è tipo i singoli che non stanno in gruppo si si questa cosa è fuori di testa pensa che tu stai da solo e dici no trattieni con la vena sul collo tutto rossa la confidenza oggi bellissimo ero a Roma stamattina quindi ho preso il treno per venire qui con quante R l'hai detto Roma sono abruzzese ragazza fortissimo ho preso il treno per venire qui passo i controlli del biglietto entro dentro termini vado vicino al binario sai che di solito quando arriva il treno all'inizio dei binari trovi i tipi con la roba cata rinfrancente arancione cazzo addetti ai lavori erano tutti in gruppo là che si stavano lavando le spallate fanno ma vedi questo ma anche meno a me farà sempre l'idea ragazzi perché non me la vivo su di me però il fatto che comunque uno proprio io devo dire sì ma io mi chiedo ma veramente ha mai funzionato nella tua vita questa roba perché come è statisticamente almeno una volta se no non può essere che è dall'inizio dei tempi è impossibile qualcuna dovrà dire sai cosa hai ragione sono proprio una panterona vieni qua magari è come il bullismo per i maschi magari è come il bullismo per i maschi capito tu ti rimmezzo i ragazzi e i ragazzi li fai catcalling non ho capito niente è come il bullismo è come il bullismo per i maschi com'è il bullismo per i maschi che in realtà non lo fanno nel provarci per bullizzarla capito è come lo zanza che tu passi e ti fa tipo oh coglione per mantenere le tue statistiche lo status capito sì sicuramente se sei in branco fare quella roba lì capito ti rileva al canzo del gruppo tutti fomentati sei troppo un figo l'hai catcollata comunque c'è un documentario sulle scemmie su netflix se lo guardate catcolla un documentario sulle scimmie sulle scimmie e tipo tante dinamiche sono da gruppo di zarri sì vabbè ovvio la scemmia più rispettata è quella che spacca tutto sta tutti in silenzio quando lei fa casino c'è sto trend su tiktok che me lo dovete dire voi perché io vabbè non sono un uomo di sta roba che mi fa straridere ogni volta che la vedo tipo di la scena è tipo lui è in palestra e si sta allenando la tipa figa del giorno che si sta allenando va e gli fa scusa sai ma quante ripetizioni hai ancora da fare e lui scappa no lui fa guarda quattro lei se ne va ok dai grazie ripasso e poi la scena successiva è lui che va dal suo amico oh bro mi è appena venuta questa mi ha letteralmente chiesto il cazzo noi abbiamo un tiktok diverso perché io ho gli stessi tiktok però quando lei va a chiedere quante ripetizioni hai fatto lui si alza prende le sue cose velocissimo e si esce comunque secondo me non è così in un'interno dalla realtà ma almeno per la mia esperienza succede che esci e va malissimo con la ragazza in questione cioè non c'è c'è zero feeling poi torna a casa poi dal tuo amico dici bro ma sai che cazzo mi piace colpa mia mi sa che forse in un certo punto mi ha guardato in un modo avrei dovuto baciarla sai che però in realtà non è mai vero cioè solo in quel momento a me è proprio capitato di conoscere entrambe le parti e magari il tipo nel gruppo whatsapp scriveva oh raga minchia stasera sono uscito con quella non avete capito no ma che sto con io stavo per salire a casa quasi tanto così e lei dall'altro lato tipo ma mi ha comprato un drink minchia mi stanca un po' su cazzo capito si si gli uomini penso che non si rendano mai conto di questa cosa dall'altra parte però i tiktok che vedo io sono le ragazze che dicono non so ah ma quindi il mio sguardo non ti ha fatto chiaramente capire che ci stavo provando con te e tutti i tipi che dicono ma in che senso davvero allora ti dico in questa roba qua io sono un po' diversa perché nell'approccio e nel flirt io sono l'uomo cioè io odio essere corteggiata ok ho sempre scelto cioè mi dà fastidio essere la preda assurdo poter scegliere l'unica volta l'unica volta che si anche io lo odio che mi hanno corteggiata ed è andata a buon fine è stato davide perché nel periodo in cui ho conosciuto davide ero totalmente cioè uscivo da una depressione incredibile che poi non sono mai uscito per la delusione del mio ex marito che mi ha tradita col mio con la mia ex migliore amica assurdo quindi c'è proprio che coppia proprio io ero proprio volevo sentire tutto nella mia vita tranne la puzza di uomo intorno a me proprio ho detto penso a me stessa al mio lavoro mi ricostruisco i miei spazi è arrivato Davide è arrivato Davide che è stato bravo è stato proprio bravo a ce l'ha a tutti i quick time event a corteggiarmi all'inizio io ero molto orissia perché tutti quanti mi dicevano ah sì ma lui ha detto sempre che non si innamora che se ne scopa tutte e così va però è stato bravo mi immagino che è arrivato ed è detto andiamo a vederci questo film in 45 mm di Kubrick sono 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 arrivata a Roma e e sono arrivata a Tiburtina mezz'ora dopo eravamo a cosa su abbiamo scopato otto volte perché comunque uscivamo no io non sono quella non te la do si può fisicamente fare otto volte di fila no minchia sì ma perché uscivamo dalla quarantena ma lui è muscolosissimo che modo i muscoli fanno sborare di più non esiste il muscolo della prostata o sì sì ma che cazzo dite come si allena la prostata non dite facendoti vinculare no proprio se scopi sempre ti alleni a sborrare ma non puoi allenarti io non si può proprio cioè io ho mille amici tra l'altro adesso forse Simone ha abbassato però si facevano 4 seghe al giorno figa e comunque è assurdo assurdo che ti ha fatto innamorare perché ha sborrato otto volte sì sì vabbè poi abbiamo ripeto uscivamo dalla quarantena perché quando abbiamo iniziato a sentirci cioè lui ha iniziato a conteggiarmi è stato per messaggi quindi mi scriveva tutti i giorni era stracarino si interessava a me quanti ricordi sono vecchio no quindi quindi è il capo del game quando ci siamo visti abbiamo detto fermi tutti prima scopiamo prima si fa il business poi andiamo a cena mi racconti le cose perché io quella roba della non te la do la prima volta perché sennò sono una troia appunto perché sono l'uomo della situazione quindi se ci provo con te perché ti voglio scopare praticamente rispetto non ce l'ho cioè non ce l'ho quella roba lì quindi a me delle tipe che io ti ho guardato in quel modo dovevi capire che è assurdo ma poi noi come cazzo cioè noi siamo già dei coglioni di base ma i tipi di base sono un po' che è assurdo che 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 che